Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, come va? Spero che siete bene e che abbiate iniziato una splendida giornata Si è concluso con un risultato neanche tanto sorprendente, il derby della Mole 1-1 tra Juventus e Torino con gol di De Ligt e del Gallo Velotti Però è stata comunque una partita ricca di tanti spunti Prima di andare a provare ad analizzare un po' il derby, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campagna dei notifiche Prima di andare sempre aggiornati sulle news del canale Allora, un derby che onestamente è stato molto dalle due facce Molto negativa da parte di Juventina e molto positiva dal lato di Torino Partiamo dalla Juventus, secondo me Allegri ha avuto le sue colpe Perché comunque quando tu già hai Bonucci e Chiellini fuori Non ti puoi permettere, fondamentalmente, è condolino squalificato Non ti può permettere di convocare una rosa soltanto con due centrali Durante il scaldamento poi si è infortunato anche Rugani Quindi Allegri ha dovuto optare per Alexandro centrale E secondo me la scelta è stata totalmente errata Perché comunque tu, nonostante con i De Winter si è infortunato Mi rifiuto di credere che non hai un centrale di ruolo Che possa sopperire a un non centrale come Alexandro Che ha giocato appunto come centrale Adattato Che fosse Che potesse essere stato Riccio Bicchien Citi Tanti nella Juventus Muaremovic Altro buon profilo che comunque la Juventus ha acquistato la scorsa estate Però insomma Allegri ha fatto questa scelta Gioco forza, non gioca a Rugani Ha dovuto adattare Alexandro Secondo me questa decisione ha inciso molto negativamente sul discorso della Juventus Perché comunque Un Alexandro messo lì già di buona dinamicità Di buona velocità Però comunque non ha l'altezza di un centrale Insomma Da quella parte lì giocava Pobega Un giocatore che in primis mi ha fatto piacere Insomma insomma Essere schiato come tequartista Teoria che insomma avevo anche portato sul canale Però è stato un po' un mismatch Alexandro contro Pobega Fatto sta che a Juve Parte con questa filosofia di gioco A inizio propositiva Poi molto conservativa Troppo conservativa Vanno in gol Con De Ligt Schema da calcio piazzato Sul secondo palo De Ligt anticipa tutti E Valiaminkovic Savic Battuto D'altro canto però Il Torino ha giocato una grandissima partita Ecco perché dico che l'1-1 Secondo me sta anche stretto al Torino Perché ha giocato veramente bene Un Iuri ci ha messo In campo Una formazione Fantastica Con la filosofia di gioco Fantastica Con un Pobega Che ha dimostrato Queste sue capacità di inserimento Questa sua forza Nonostante Hai giocato lì Nonostante Iuri ci abbia impiegato Per grande parte della stagione Linetti Come Diciamo Trequartista tattico Oltre che Pride Però beh Pride è infortunato Una difesa Tre Con Gigi Bremer E Rodriguez Che non hanno Fatto vedere la palla Agli attaccanti Juventini E qui Alto errore Di filosofia tattica Nel senso che comunque Tu avevi Un Morata Un Di Bara E un Vlaovic Che tecnicamente Sevelo dovuto andare a uomo Sui tre centrali Però dovevi essere a uomo Se tu poi magari Mi fa rientrare di Bara Verso il centrocampo A dare un po' fastidio A Mandragora O a Lukic E lì si viene a creare Un'infiorita numerica Dall'attacco juventino Un Vlaovic Che è un po' in ombre È stato Ancora deve inserirsi Deve migliorare In molti fondamentali Quindi ecco Se tu Imbastisci la gara Sul uno contro uno Tra gli attaccanti juventini Vicente del Torino Se poi uno Si va a togliere Dalla battaglia Per estragnarsi Dal gioco D'impostazione Dal gioco d'attacco juventino Tra l'altro Un di Bara Molto in ombra Che è poi uscito Per questo piccolo Affaticamento Al flessore sinistro Insomma È stato qui Anche qui L'errore tattico Di Allegri E della Juventus Certo Bremer Si è confermato Un'altra volta Un giocatore Di altra categoria Perché veramente Ha annullato Vlaovic Ma in generale La difesa del Torino Ha veramente Giocato Molto molto bene Si vede poi Che il Torino Ha giocato Con i centrocampisti Centratitolari Quindi Lukic E Mandragora Non sono stati Prestati a dovere Nei tre centrocampisti A Juventus Quindi Locatelli Zaccaria E Rabiot Non hanno fatto Molto filtro Il centrocampo Quindi molte volte Si andavano a creare I duelli Di centrocampisti Più di trequartisti Più di Belotti Contro Con una difesa Juventina Che insomma Ripeto Ha fatto un po' Acqua a tutte le parti Un Quadrado Totalmente In giornata no Un Pellegrini Poi che Già era in difficoltà Un po' uscito E' entrato di Sciglio E anche Voivoda Il gioco Voivoda Con Mandragora Contro Quadrado Soprattutto Che è stato Un gioco Di infelita numerica Per la Juventus Determinante Secondo me Appoggiati comunque Da un Mandragora Che Appoggiava molto bene La manovra Accompagnava molto bene La manovra Che ha fatto sia Lavoro di interdizione Che anche Di impostazione Una Juventus Troppo Troppo bassa Un Torino Molto molto alto Aggressivo Cattivo Voglioso Che Aveva voluto anche Rischiare di vincere la partita E secondo me Non l'avrebbe neanche Demeritata Una Juventus Molto incostante Io l'avevo detto In un video La Juventus Non può rientrare In discorso scudetto Come molti giornali Subito dicevano Eh sì Sì Sedi 13 risultati positivi Quindi la Juventus Può rientrare In discorso scudetto Ragazzi È utopia È fantacalcio Troppo tardi Troppo discontinua Mentre in Torino Io Ancora continuo A optare Per una sua lotta Per la Conference League Perché veramente Se Riuscissi un pochino A Mitigare Quella Quella difficoltà Ne raccogliere punti O meglio Scusate Se devi perdere punti In ultimi minuti Potrebbe fare Tutto un altro Campionato Il Torino Perché veramente Un'ottima squadra Ieri ripeto Bellissima La mossa di Juric Di Pobega Uno Trequartisti Quindi il trequartista Tattico Con un brecalo Più libero Di svariare Ritorno al gol Di Belotti Sul cross Dello stesso brecalo Errore Di Alexandro Che si va Troppo a schiacciare Verso il laterale Scusate Verso il fondo campo Quando poi Lì gioco forza Cross dal fondo campo La palla deve per forza Sornare indietro E lì Ha peccato un pochino Alexandro Ma ripeto Non Questa volta Non me la sento Neanche tanto Di massacrato Alexandro Perché Non è abitato A quel ruolo Ma ripeto Errore fondamentale Di Allegri Di non portare Almeno Almeno Un altro centrale Aveva una panchina Molto corta Quindi Uno Tra Citi Bikken Muaremovic Stramaccioni Riccio Te lo dovevi Assolutamente Portare Perché un centrale Giove di ruolo Secondo me Non può far peggio Di un terzino Non abituato A giocare Nel ruolo di centrale A due Perché Alexandro Giocato a volte Come braccetto In sinistra In una difesa A tre Spero quindi Di avere Riassunto In modo Ottimale La mia visione Del derby di ieri Mi raccomando Se il video vi è stato utile Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale Ti va da campanellina Per rimanere sempre a giornare Sui news del canale Firmate un abbraccione E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi